Prova Ok per andare va Perfetto ciao mitici e benvenuti ancora nel mio canale Nulla, vorrei ringraziare praticamente un nuovo follower che si è iscritto ben 11 ore fa C'è un nuovo partiere così almeno lo vedete anche voi Si chiama Eduardo Mas 00 Quindi grazie mitico, benvenuto nei mitici Nulla, direi di continuare con Titanfall Dopo le 3 ore passate sabato Spero di essere arrivato in buon punto A meno un gioco voglio finire Vorrei finire Titanfall Poi magari cerco di fare una cosa abbastanza veloce Così posso fare anche altri giochi che non ne ho una caterva da fare Tra cui Pokémon Master One Piece 3 Scruise Altri giochi per PlayStation 4 Avevo intenzione di prendere anche un altro gioco che si chiama Gran Turismo 7 Però non lo trovo nello store Sarò impedito Però pur non lo trovo C'è soltanto quello sport E vediamo un po' si riesco a trovare Intanto sono ancora da solo Sotto c'è ancora la novità C'è la novità del pad Che va a seconda di quel che faccio io Così almeno vedete cosa e i movimenti che faccio L'ho studiata più che altro per FIFA 20 Ma non credo che ce li rigiocherò Perché ogni volta che mi collego Cerco di fare qualcosa Pum Da errore di connessione Stranamente con gli altri giochi online I problemi non me ne dà Ah poi anche PES Perché ho PES Lite Che è veramente carino Cioè È un pochino Ho qualche pecca nel gioco Nella giocabilità Però non è male Quindi attenzione di riportarlo ancora Visto che è tanto FIFA Più che tirare giù dei Santi Non mi fa Quindi nulla Direi di continuare la campagna Allora siamo rimasti Che abbiamo finito finalmente La missione che ha trovato Il comandante che dovevamo trovare Morto Stavamo muovendo tutti ragazzi Tra poco divento l'imperatore supremo Io ho preso il suo posto ovviamente Il mio Titan ha deciso di non mollarmi Per fortuna Ha detto no Io voglio solo lui Ha detto che Cade Visto che non c'evo nessuno Va bene d'accordo Prendiamo anche lui Perché io sarei uno della fanteria Quindi nulla Ha deciso poi di Lasciarmi in Titan Quindi dovevamo andare avanti Con la missione Vediamo un po' Il registro di Cooper Vabbè questo qua è stato un po' Una sintesi Un po' Auma auma diciamo Oh sono ancora da sola Vabbè fa niente Poi Spero che vi divertiate Pensi in mia compagnia Anche in differita Devo ancora pubblicare Il video di tre ore Su youtube Non so se mi conviene Più che altro farlo Perché Un video di tre ore Su youtube Dubito che qualcuno se lo caghi Però vabbè Io lo pubblico Lo esporto Poi vediamo un po' Poi lascerò anche Su Su twitch Il video Cercherò di Non farlo perdere Vabbè Vediamo un attimo Quanto tempo ci mette Per Riecappare Ok perfetto Si va Siamo a seccetto Piano Tritore L'IMG ha creato Un'arma da piegamento Ha il potere Di distruggere Mondi interi Ma Senza la sua fonte Di energia L'arca Non funziona La missione È recuperare L'arca Prima che lasci La base aerea Rorbo Marode Armi prote Prepararsi A Titanfall Mo' si fa Su serio Andiamo a Spaccare I Atterraggio Perfetto Stile Al riparo Pilota Andiamo abbassando Quel muro Attenzione Se non eliminiamo Quei cannoni Non ci avvicineremo Più di così A quella nave Quelli sono in posizione Tenere il corpo Si porta a colli Di bronchi e carico Recomandante Bri Liberate le opi Fuoco Apri Prevati dalle palle Corri Amico Minos Dove si distrutto Uno Ok Cazzo Elk 9 Rispondi Non fermarsi Elk 7 Perdi la rotta Perdi la rotta Tanti e conquistami! Dormitore, odio alle spalle! Shack! Dovamo scappare, cavalli! Beggio 6, vai con piano! Fave! C'era il seno! Ma pace! Mette cacca su tutto! Andiamo amici! Alla rimaggio! Seguitevi! Che che mira di merda Kaitan, dai! Muoversi, quella nave potrebbe decollare! Ma pace! Che cazzo vado? Nucchio raffica pronto! Nucchio raffica! Come cacchio ci faceva? Ah, con questo! Nucchio raffica attiva! Ma culo! Ragazzi, non volatevi! Levate! Vai dal nemico a terra! Allevatevi! Bambini eccessivi! Attenzione! 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 Sacca che si sta fendendo! Non scarica in uso! Attenzione! Reattori instabili! Destra sostituzione batteria! Batteria richiesta! No! Mi ha distrutto! Mi ha fatto affette! Nooo! Mi sono fatto prendere dall'enfasi! E te credo si mettono avanti! Arrivano altri dai guardi a DMC! Diamogli una lezione! Avanzate ancora! Via, via, via! Eh, muoversi! Quella nave potrebbe decollare! Eh, muoversi questa ceppa di milza! 3 più 4 servi più avanti! Ora! Oh! Lasciami in pace! All'entrata sotterranea! Suspizione! Nucleo raffica pronto! Nucleo raffica attiva! Dai! Fallo! Ma che non fa... ...la raffica? Prima! Lascio il nucleo scarica! Guardi eccessivi! Attenzione! Attenzione! Nooo! Nooo! Ah, è stato di nico a terra. Ah, è beccato, è beccato, è beccato, no, è beccato il muro, no, è beccato il muro. Levasi dalle spalle, pirra! Spacchiali! Spacchiali! Ancchiali! ...della milizia a terra. ...enlimi che faccia i sottotitoli, sopporto! ...dai da nemico a terra. ...eci che a che stanno colpendo. Ma se vi ribatte dalle palle evito di colpirvi Questa è la scena Sì, però... 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 Sì... Oh... ... No... Sì... ... ... No... ... 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 ! ... 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 Mi serve che un pilota conquisti il punto della malta Eh, insomma, perché sono io? Ma mi sa dire Ha ricevuto 6-4 Puoi farcela, Cooper? Eh, mi deve lanciare No! Come prima? Non esattamente Ci sono molte più variabili in gioco nel lancio tra due piattaforme in movimento Buona fortuna Grazie Benvenuto nella 6-4, Cooper Cooper, non possiamo portarti direttamente sul ponte Non supereremo mai quei cannoni Te lo siamo a pompa Dovrei farti strada verso la prova Contatto a sinistra Cooper, mi avvicinerò il più possibile senza schiantarmi Pronto a saltare Ora, tre Ciao, mici E' qui la festa? Ho un pilota di tagna delito della Baia Drone 5 Mi serve l'assicuramento Ora! Sei un uomo sotto le scale Sono dietro lato Roche a schianto sinistro Vado, copri Torchi erattivi Qui? Vai! Vado, copri E' qui? Sì We a yudì Non passalo Come prima E' qui? Non passalo Non passalo No die Sì Non passalo Non passalo Non passalo C'è Non passalo ... 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 Porco due Porco due Che cazzo Ma perché sta così Alzati Che tembato A pugno in faccia tembato La sola è libera Comandante Briggs qui da Braxton Siamo tra i cannoni della Malta e qualità intervolante Ci fanno pezzi Stiamo lavorando resistete Cooper sta raggiungendo i cannoni principali della Malta Non so se sarà sufficiente Cooper sbrigati Eh beh una parola Ma no ha finito il proiettivo Manteniamo la rotta Perché anche se faceva cambiare l'arma No ha finito per questo Aiutimi dove è? Scrivati per le spalle Dammi quel co... No ho un'arma no Non ho un'arma Ma dove cazzo andare? Questa è un'arma no Dove cazzo andare? Iniziano a throwback Un'arma no Ma più L'arma no Alla La scala è un'arma no No, sono caduto No Sono morto Sì 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 Mamma mia come l'ho mattato, come non l'ho mattato Sì 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 Non l'ho capita sta cosa Non l'ho capita per un cazzo ragazzi Sì 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 a tutte le forze di sicurezza convergete sull'anga ripeto il codice rosso tutte le forze convergono sull'anga al riparo qualcuno mi vuole mamma mia come non li sto ammazzati devo appare colpa di fuori Grazie. 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 Tipo strada. Porta in alto la mano. Disattiva il capitano. Entra. Contestamente. Guido il coso. Che... E qual è la draconis? E qual è la draconis? Rican Cooper, non faccio il babysitter. Oh merda. Vabbè, questo è il mio fighter. Ciao, amico mio! Pronto a trasferire i comandi al pilota. Come stai? Eh, eh, fammi entrare. Eh, fammi entrare. Ciccio! Come si entra? Non mi fa entrare! Ti devi dal cazzo! Ah, ti hai premuto il quadrato. Capito? Ok. Ok, fratello. Conquisto il ponte. Andiamo un po'. Grazie. Va bene, felicità. Vado ad attaccare il nemico. Vado ad attaccare il nemico. Un po' di watchsину. Superi che e' semplicità. Vi ha un po' di farlo! Ogni spettacolo. E god è un po' di farlo. E' un po' di farlo. Qui va bene. E' un po' di farlo. E' un po' di farlo. Non ti pi preferσα. E' un po' di farlo. Non lo so. Non ci sia di farlo. E' un po' di farlo. Nemico sui. Buna in. Guggo. E' il tuo ultimo viaggio, signor. 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 E' il tuo ultimo viaggio. E' il tuo ultimo viaggio, signor. 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 Viaggio, signor. E' il tuo ultimo viaggio, signor. 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 E' il tuo ultimo viaggio, signor. E' il tuo ultimo viaggio. Oh, che pochino. Oh, che pochino. Mi serve copertura. Uber, mira l'abitacco. Oh, rotta il cazzo. E te, qual è il piano? Dobbiamo proseguire la missione. Un pezzo di merda. Questa nave sta perdendo vuota rapidamente. Ma mi ha perso braccio, povero Pitti. Ma io non posso tagliare. Me l'ha rottuto. Qua giù. Attenzione, c'è un Titan! Le scialuppe! Non si ha le scialuppe! In arrivo all'unità di contenimento dell'Arc. L'unità di contenimento è troppo grande. Dobbiamo improvvisare. Non posso raggiungere l'Arc. Uber, mi serve il tuo aiuto. Abbandonati. Attenzione. Attenzione. Presto. Dobbiamo abbandonare la nave. Non c'è più tempo. Eh, ho capito. Ecco, cacchio. Di qua, Uber. Che fai? Protopolo 3. Porta via l'Arca! Negativo. Siamo bloccati. Non perderò un altro pilota. Pronti all'impatto. Cioè, si sta sacrificando per moi. Dai, buona cena. Io mi sa che tra una mezz'oretta inizio anch'io a prepararmi. Bello sto Titanfall, però mi dispiace per il mio BT. Ecco, c'è più tempo. intanto ho visto che è partita la pubblicità quindi aspettiamo un attimo 10 secondi perfetto dai è in fischio dei tuoi problemi Blitzk una volta consegnata l'arca il pagamento verrà trasferito dall'IMC come da contratto tu prepara i miei soldi io ti riporto il tuo prezioso carico inutile idiota ehi Titan adesso tu ti apri e mi dai quello che voglio comando vocale non riconosciuto lo faccio parlare troppo rischioso l'arca è instabile ascolta tu hai ciò che è mio e io lo ripoglio avanti di al tuo Titan di aprirsi su cosa? i suoi sentimenti? cerchi ancora di fare l'eroe eh mi parlo questo contratto farà di me un uomo ricco di al tuo Titan che se non si apre io ti sparo in testa pilota in pericolo sistemi visivi precari non riesco a vedere il pilota tiralo su lo vedi ora? qui proprio qui si? ora lo vedi? funzioni compromesse da bravi danni causati dallo schianto non mi importa quanto sei rotto so che in fondo alcune cose alcune cose funzionano ancora ora apriti o sparerò al tuo pilota dritto in testa i numeri li ricordi vero? adesso conto fino a tre uno due tre no non è stato così difficile vero? e questo è il problema con le squadre se non si vince insieme si muore insieme grande ha fitto di essere malato no bel tentativo di buonanotte no ehi porta via l'arca non abbiamo più tempo no mi ha rotto tutto il titan io ho della mizu bici no cover di qua cover non posso più proseguire la missione ma tu puoi prendi chi sia è la tua migliore possibilità di sopravvivenza attra finirà che finirà Grazie. 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 Ok, è aperto qua. Grazie. VT-7274. Cooper, mi ricevete il basso. VT. Cooper. Cooper. Sei tu? Però rupe pal. Cooper, sono il comandante Sarah Briggs. Se mi ricevi, vai al monte a un chilometro a nord della tua posizione. Abbiamo una possibilità per ribaltare questa battaglia e sei tu. La nostra flotta va all'arma da piegamento. Stiamo arrivando, non è ancora finita. Questa è la ca' sterra! Ci fa una bestia. Avete rotto. il pt, adesso li ho bemato tutti non dovevate roppermi il pt io invece si eh amica nooo eh questo pezzo non mi è congeniale non mi è congeniale abbiamo un ultimo vanguard nell'arsenale estraggo il suo nucleo e lo preparo per Titanfall il pilota è un nemico andatevi da fare non mi è congeniale 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 attrappolette Altro puntato. C'è tu il mio Titan? Vabbè, intanto c'è il mucco di quello. Ciao, amico Pizzi! Eh, rupiamogli al culo tradotto. Cooper, sto lanciando tutto quello che ho all'IMC, ma non sarà sufficiente per fermare l'arma da piegamento. Devi entrare nella sala di controllo. Comandante Briggs a tutte le postazioni. Voglio fuoco di supporto ravvicinato su Cooper e BT a qualunque costo. Ricevuto, forza e chiaro. Cooper, sali in quella collina. Ti copriamo, muoviti! Sai da nemico a terra. Rilevo i battagli! Sparo! Pericolo vicino! Sai da nemico rilevato! Attacchi! Mi vedo! Sparo! Pericolo vicino! Rilevo i battagli! Rilevo i battagli! Fuoco! Hai da nemico a terra. Mi vedo! Mi vedo! Sparo! Pericolo vicino! No, 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 no! No! Che cazzo! No! Dove sei Titan? Titan? Dove sei? No! Ops! Eh, ma... Mi sono buttato fuori! Come un pirla! Per sbaglio ho schiacciato quadrato! Cooper, sto lanciando tutto quello che ho all'IMC, ma non sarà sufficiente per fermare l'arma da piegamento! Devi entrare nella sala di controllo! Comandante Briggs a tutte le postazioni! Voglio fuoco di supporto ravvicinato su Cooper e BT a qualunque costo! Ricevuto! Forza e chiaro! Cooper, sali quella collina! Ti copriamo! Muoviti! Rilevo i battagli! Sparo! Pericolo vicino! Mi sei perso, pilota! Sì, dico io la mia... Mi vedo! Faro! Venito da vicino! Non è che mi stanno comprendo, eh? Corri! 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 Corri, BT! Sì, vabbè vabbè vaffanculo! Ti copriamo, ti copriamo, ti copriamo e intanto mi lascio morire! Ah, la strategia di correre è... Cooper, sto lanciando tutto quello che ho all'IMC ma non sarà sufficiente per fermare l'arma da piegamento! Devi entrare nella sala di controllo! Comandante Briggs a tutte le postazioni! Voglio fuoco di supporto ravvicinato su Cooper e BT a qualunque costo! Ricevuto! Forza e chiaro! Cooper, sali quella collina! Ti copriamo! Muoviti! Rillevo i versagli! Sparo! Pericolo vicino! Non ti faccio passare! Rillevo! Sparo! Pericolo vicino! Hai da di ticco a terra! Andrei da nessuna parte! Versaglie che sta! Tifoso! Rillevo i versagli! Sparo! Pericolo vicino! Ma dove suono sti qua? Ah! Credi di essere bravo, vero? Sì! Li vedo! Sparo! Pericolo vicino! Li vedo! Sparo! Pericolo vicino! Rillevo i versagli! Tifoso! 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 è sparita, voglio un rapporto, subito! Qui è il capitano Lendegar della Rathledge, la Stockton sta precipitando! Comandante Briggs, qui Gates della 64, siamo in ritardo? Appena in tempo Gates, quanta potenza ti è rimasta nella malta? Ne abbiamo volontà, tranquillo Coop, ti guardiamo le spalle. Sistemi di mira a David, siamo pronti a sparare! A verpa, potessi un primo municiatore! Stai aggacciato, fuoco! Fuoco, pericolo vicino! Fuoco! Fuoco! Nessun problematico, doppio scarico! Mare da nemico a terra! Sì! Ascoltiamo qualcosa di più troppo di un soldato! Qua, non sai fare il meglio! Stai piacendo? No, 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 no. Eh, dai. Usi l'arma da piegamento, altrimenti Harmony, il pianeta della milizia verrà distrutto. Attenzione, personale dell'IMC. Qui è il generale Marter. I mercenari hanno consegnato l'arca. Preparate l'arma da piegamento. Inizializzazione sistemi di alimentazione, arma da piegamento. Caricamento ricevitori di puntamento. Posizione su Harmony, il pianeta della milizia. Avvio sistemi di puntamento. Harmony, coordinate 264.588 registrate. Comandi trasferiti a pilota. Non ho capito cosa devo fare qua. Ah, devo continuare ad andare da lì. Sei stato pagato, Brisk. Fatte me. Da qui in poi ci pensano i miei. Con grande piacere. Credo che il pilota miliziano voglia fare l'erore. È tutto tuo. Vieni pure in me. Chi ha mai parlato di resto? Questo lo faccio gratis. Sai cosa vedo quando ti guardo? Un mocchio di soldi facili. Iniettore arca carica. Preparare fase 1. Non puoi scappare da un nucleo laser. Forza. Attenzione. Attenzione. Non puoi scappare da un nucleo laser. È più divertente di quanto pensassi. Prendetelo, ragazzi. Non puoi scappare. Preparazione arma da piegamento. Fase 2. Coordinate agganciate. Sistema free forward. Designazione planetaria. Harmony. Sai tan nemico acquisito. Mi amicinco. Mi od DNA. Mi bat si mi è spent me mi 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 Cosa è il problema? Io sono i soldi che riuscite! E ora è il problema, ma non è che non è il problema! Ecco, non lo vediamo mai! Non ci vediamo! Non lo vediamo! Non lo vediamo! Cosa è la domanda? Non lo vediamo! Non lo vediamo! Ma è uno di noi! Allora freddo Merda Te cazzo di munizioni Bel tentativo, ma non sono una peda facile Nucleo astuzia pronta Sono l'unica che spara al bastardo? Nucleo astuzia attivata Sì, sono un po' sottosso, eh? Vediamo come te la cavi conquisti Nucleo astuzia offline L'arma da piegamento si avvicina alla fase 4 Inerzia dell'area 97% Dai! Facciamolo deficiente! No Ma la sua la fatta forza Questi saranno soldi facili Potrai farlo anche gratis Non dovrò neppure sudare Combatti come un soldato semplice D'altronde sei un soldato semplice Non ricorderò Credo Ecco Anche Sub. Porco due ero bloccato E' la tua ultima fermata L'iniettore arca cai Preparare fase 1 Non puoi scappare L'iniettore arca cai Attenzione 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 Creatore instabile E' stato riduzione batteria Tutto a funzione Prendetelo ragazzi Preparazione arma da piegamento Fase 2 Coordinate agganciata Sistema free Designazione avvantata Arma Si sta arma però non è C'è un'arma Dai vero Nucleo astuzia pronto Nucleo astuzia pronto Questa fiesta Arma Nel'iniettore Acqua Pronta a combattere Nucleo astuzia off-line Pronta a combattere Arma Piegamento Fase 2 Contatto Le proiezioni Piega Spazio Per Verrà Ma va a far culo, no, 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 l'hai fatita tua, porco tu Sono l'unica che spara al bastardo E non spara più sto coso L'arma da piegamento si avvicina alla fase 4 Inerzia dell'anello al 97% Sparono Dai Non muore questo po' Dai Dai Viene fatta le pupalle Tutto il personale deve lasciare subito la sala Previsto grave disturbo alle unità elettromeccaniche Inclusi i titani Ok Non sono le batterie Eh ho capito se ne ho trovarla Non ce la devo fare Ce la devo fare E' il problema che devi far iniziare da la No Non ti faccio passare Iniettore alchacare Preparare fase 1 Meglio a funzionare Quattro nemico a te Prendetelo ragazzi Preparazione arma da piegamento Fase 2 Coordinati agganciati Sistema 3 Designazione planetaria Arma Noi spara Nooo 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 Arma da piegamento fase 3 Calcolo proiezione piega spaziale Qualche batteria che mi serve Eeeh Nooo 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 Nucleoassi. Dai! Alla prossima Attenzione, attenzione Attenzione, energia di scarico vicino alla foglia di carri Tutto il personale deve lasciare subito la sala Previsto grave disturbo alle unità elettromeccaniche, inclusi i Titan Sei quasi spacciato, amico Attenzione, navi danni a buscato Non verrò distrutta dalla parte di Genka Oh Eh, da che parte deve andare? Dove deve andare? Non so che cosa sia successo ma Non ho capito dove deve andare Eh, comunque grazie a chiunque Allora, di qua Preparazione arma da piegamento completata Schieramento a Tanto grazie a Russian Per il nuovo foro Ecco quindi Ah, basta Non è che la volta Oggi non ti uccido Io non lavoro gratis Però Nemmeno tu riuscirai a uccideremi Tieni, te la sei meritata Non è un mio problema Dovevi scriverlo sul contratto Devo vedere altra gente ricca Che stai facendo? Cosa credi di fare? Le analisi indicano che il lancio è l'unica opzione Le analisi indicano l'unica opzione C'è l'unica opzione Il lancio è l'opzione Il lancio è l'unica opzione Il lancio è l'unica opzione Posso lanciarti Via U Cooper Ho bisogno del tuo aiuto I sistemi di navigazione sono offline Portami a quell'iniettore Dovremmo collaborare Dovremmo collaborare Comandante Briggs Forse ho una soluzione Nel suo stato esposto Il nutto del mio odore Potrebbe destabilirsi Sarca al centro dell'arma da piegamento Non lo stai dicendo Lo dobbiamo saltare Indio le coordinate per la narice E c'è la da trasforma Coordinate ricevute Noi ci saremo Ma tu come diavolo farai Fidati Ho fatto i conti Ero con tutta me stessa Stiamo arrivando In bocca al lupo Ai trappi Passo e chiudo Tranquillo BT Non vado da nessuna parte Ricevuto Protocollo 3 Proteggere il pilota BT che stai facendo? Fidati di me No è questo vizio Di lanciarmi Super Abbiamo perso il segnale di BT Ci siamo quasi Cooper Sto segnando le coordinate Sul quad Il punto di attrazione Potrebbe essere in aria Non possiamo atterrare qui E se devo volare In mezzo a questa merda Vedi di essere puntuale ragazzo Muoviti pilota E che cazzo Mi seguo Continua Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta? O sono morto? C'è sto capendo Più cazzo Ragazzi Sto segnando le coordinate Sul quad Il punto di attrazione Potrebbe essere in aria Non possiamo atterrare qui E se devo volare in mezzo a questa merda Vedi di essere puntuale ragazzo Muoviti pilota Ciao Ho visto il telegiornale Dico che i cinesi Hanno Fettato Una vitale Eh Sì Diciamo Grazie Grazie Russian Ho mancato Ho mancato il bersaglio Sì Sì vabbè Ha sbagliato comunque Ero riuscito bene all'inizio Sto segnando le coordinate sul quad Il punto di attrazione potrebbe essere in aria Non possiamo atterrare qui E se devo volare in mezzo a questa merda Vedi di essere puntuale ragazzo Muoviti pilota Mi seguo Continua Cooper salta Cooper salta Io ho saltato Spero che Sono morto Eh Cooper salta A dove? Contatto visivo Uh Ce l'ho fatta Preso Grazie Vambola Forza pilota Valken Tiraci fuori Ah Pilota Cooper Molte persone ti devono la vita E abiti E vabbè Stabilisce la lotta per armi Portaci a casa Ricevuto La distruzione di Typhon La distruzione di Typhon ha salvato il pianeta Armory La milizia lo considera il suo quartier generale Ma per milioni di persone è casa Il comandante Briggs dice che entrerò nel corpo Marauder e avrò un nuovo Titan Dopo che i tecnici avranno il mio collegamento Dopo che i tecnici avranno alzerato il mio collegamento neurale con te Non so a cosa si provi A essere assegnati a un nuovo Titan Mi piaceva quello vecchio Qui è il pilota Jack Cooper Chiudo Ah L'ho finito L'ho finito raga Peccato per il mio Titan Non era bravo come il navigatore Però alla fine era simpatico Vabbè almeno Il gioco l'abbiamo finito ragazzi Il mio obiettivo l'ho fatto Sono un pochino stanchino Andiamoci un po' a sta fine Sta tipo che mi dà braccio Mi dà una mano Mi guarda con gli occhi dolci Spero che sia una fine carina Cioè solo così mi siamo un po' una boiata Mi guarda con gli occhi dolci A quanto pare Non si può schippare sta cosa Grande BT Sì per i nostri quali Secondo me ci sarà il 3 Che bisognerà andare a prendere Quel mercenario là Che bisognerà andare a prendere 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 e quindi ha ha Alla prossima. Teoricamente l'ho finito. Grande, grazie mille a GAT145, benvenuto un mitico. Buonasera accadere, mitico. Io praticamente ho finito, adesso non so quanto dura questa parte finale. Cioè sta lagna, non si può neanche schifare. Cioè non voglio chiudere la live senza, magari c'è qualche colpo di scena. Ok, finora è un po' monotono, un po' triste. Aspettavo qualcosa di più carino, tipo wow, bomba atomica. Esplosioni. Cioè non sembra una fine, c'è un po'. Dai, muoviti che devo cucinare. Eh, ho capito, amigos. Quindi, mi devi far vedere tutti i titoli di coda? Cioè è pazzesco. E' tattina massa. Tanto questo si guarda le stelle, è contento, sorride. Ah, che forse sono io quello là, eh. Mi dispiace per il mio titan. E' stato molto simpa. Però si è sacrificato per la causa. E siamo usciti vincitori. Allora, questa live è un'ora e 45, più o meno. Adesso sì, più o meno 45. Non so quanto durerà ancora questa intro, non so se... Volete vederlo o meno. Bella. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Perché c'è i E? Ah, sì, perché è dell'elettronica, è vero? Me l'ho dimenticato. Bello il gioco. Devo dire che è stato molto bello. Poi alla fine era un po' troppo macchinoso. Non riusciva a governare bene il titan. Però forse l'arma che non è delle migliori. Perché per caricarla ci vuole a 300 anni. Però mi è piaciuto. Il gioco è relativamente bello. Perché comunque se l'ho portato alla fine è perché comunque mi è piaciuto. Quindi devo dire, devo fare complimenti a parte quando mi si è bloccato verso metà live e mi ha ricordato qualcosa tipo la EA, tipo FIFA. Devo dire che nel complesso il gioco è veramente molto bello. Mi è piaciuto. Non è neanche, vabbè, che l'ho fatto a livello normale. Quindi bisognerebbe vedere a livello difficile come che cosa ti caga fuori. Comunque nel complesso il gioco è veramente molto bello. Mi è piaciuto. Anche la storia è un po' macchinosa, però bella. Quindi io ve lo consiglio. Poi vabbè, fino al mese scorso era gratuito nello store. Quindi se l'avete preso nell'Apple Plus vi consiglio di giocarlo perché è un bel giochino. Allora io direi di stoppare qua perché non so quanto possa durare ancora questi titoli di coda. Onestamente mi cerca di tenervi così e quei titoli di coda. Forse sono finiti. Vediamo un po' cosa c'è, bella frate. Vediamo un po'. Ah, così? Quindi? Casco che... Ok, finito. Nulla ragazzi, poi ci sarà un multigiocatore. Boh, non so se lo farò. Niente, siamo giunti e saluti. Grazie per i nuovi mitici. I nuovi mitici che si sono diventati follower. Quindi nulla ragazzi, spero che vi siate divertiti in mia compagnia. Che vi sia piaciuto il gioco, come è piaciuto a me. Niente, siamo giunti e saluti. Un saluto a tutti per le volte a voi su quest'anno di Alice. Ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo live. Bye. Ciao. 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 Ciao.